Il 28 luglio il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Graziano Del Rio, tornerà a chiedere la calendarizzazione per agosto della legge elettorale. Era un accordo sul quale tutta la maggioranza si era impegnata nel calendario fin da gennaio, proprio per il mese di agosto. Non si capisce l'atteggiamento oggi di Italia Viva, che dice non è una priorità. Lo è e come? Perché il 20 e il 21 settembre ci sarà il referendum che prevede il taglio dei parlamentari e con la legge elettorale attuale, nel caso si dovesse andare al voto, alcuni territori rimarrebbero privi totalmente della loro rappresentanza. Noi crediamo che i patti vadano rispettati, tanto più che questo era un patto fondativo del Governo, cioè che accanto al taglio dei parlamentari dovessero esserci delle riforme costituzionali e la legge elettorale che la accompagnassero. Altrimenti ne sarebbe stata privata la nostra democrazia. Perciò ci sono tante priorità nel Paese, si possono fare tutte, il Parlamento può lavorare e quindi noi torneremo a chiedere la calendarizzazione della legge elettorale.